Ezio Mauro, buonasera. Ciao. Prego, ci andiamo dal tuo ovviamente. Non vorrei vedere. Ovviamente. Senti, tu sei stato, hai visto questa lunga chiacchierata di Herzog con Gorbachev, tu sei stato corrispondente da Mosca nel pieno degli anni della perestroica e della glasnost. Che atmosfera si respirava? Si respirava un vento di cambiamento che non si sapeva però dove avrebbe portato. Mentre in Occidente si pensava che il cammino fosse un cammino indirizzato verso la fine del sistema comunista. Lì si capiva che si stavano allentando i bulloni del sistema, ma nello stesso tempo c'era la preoccupazione sulla tenuta complessiva di quel mondo messo in movimento e messo in fibrillazione. Ma scusa, la sensazione che tu avevi è che, diciamo, la popolazione fosse schierata dalla parte di Gorbachev oppure no? All'inizio c'è stata una fortissima novità, un senso di cambiamento notevole. Basta pensare all'aspetto onagrafico. Aveva vent'anni in meno di un leader che nell'ultimo anno non si era mostrato all'opinione pubblica perché era malato e la liturgia comunista non poteva nemmeno pronunciare la malattia che aveva. Si diceva che avesse un raffreddore. Come mai quella nomenclatura punta su un politico che non ha nemmeno visto la rivoluzione d'ottobre? Cioè fa una svolta così clamorosa dopo tante facce di pietra granitiche? Ma forse la chiave è in una frase di Gromico, uno dei numi tutelari del partito, dei padri nobili del partito. Ministro degli esteri per Bucchi. Storico ministro degli esteri. Poi presidente dell'Unione Sovietica prima di Gorbachev. E nel comitato centrale che deve scegliere il successore di Cernienco, quando si parla di Gorbachev e qualcuno dice ma è molto giovane, Gromico dice lo conosco bene, vi garantisco che ha i denti d'acciaio. Quindi c'era la scuola, un bolshevico di provincia che a 39 anni diventa capo locale del partito, che a 42 anni entra nel comitato centrale e fa la carriera classica. Ma il perché è un'altra ragione. Alla fine della guerra fredda, sul bordo estremo della guerra fredda, finirà con Gorbachev, il sistema si rende conto che il gigante sovietico ha i piedi d'argilla. Bisogna cambiare per conservarlo. La tragedia di Gorbachev e la grandezza di Gorbachev, le due cose contraddittorie, stanno qui, stanno nel fatto che lui voleva trasformare il sistema per conservarlo. Quindi lui è tutto interno all'orizzonte comunista, lo vuole riformare davvero, lo vuole cambiare per poterlo tenere in piedi. E questa sincerità è testimoniata dai viaggi che ha fatto a Cuba quando ha detto a Castro che bisogna cambiare per salvare il socialismo e quando l'ha detto a Necker. Ed è stato preso praticamente a male parole da entrambi i leader. Beh, non solo gliel'ha detto, gliel'ha proprio fatto vedere anche con la gestualità, no? Non lo ha baciato, non ha fatto come i suoi predecessori. Ha detto quella frase famosa, chi rimane indietro verrà punito dalla storia. Certo. E tutta la nomenclatura della DDR ha capito. Infatti, 10-15 giorni dopo l'ultimo viaggio di Gorbachev, Onnecker è saltato, ma il sistema era in decomposizione, poi è caduto il muro di Berlino. Senti, riprendo questa frase di Gromico, lo conosco bene, ai denti d'acciaio. Gromico sicuramente era forse l'uomo che conosceva meglio il mondo fuori dall'impero sovietico. E forse aveva capito che c'era la necessità di questa svolta. Ma secondo te era più una svolta che loro immaginavano rispetto all'esterno piuttosto che all'interno? Oppure volevano davvero che cambiasse anche la struttura dell'Unione Sovietica internamente? Non volevano cambiare la struttura ideologica e quindi le ricadute materiali dell'organizzazione del mondo sovietico di questa ideologia che era al potere da 70 anni. Volevano però cambiare la politica. Non potevano proseguire la corsa agli armamenti. Dovevano svelenire il clima della guerra fredda. Non ce la facevano. Nell'89, anno terzo dell'era gorbacioviana, quindi già da tre anni al potere, con tutte le aperture timide di mercato che ha fatto, il 32% delle province sovietiche ha un deficit di carne, il 49% ha un deficit di burro, il 53% ha un deficit di pane. Quindi siamo in una situazione veramente molto complicata. C'è bisogno di cambiare. Il limite e la portata rivoluzionaria di Gorbaciov sta dentro queste due parole che sono la perestroica e la glasnost. Lui non dice dobbiamo arrivare alla democrazia e dobbiamo arrivare alla verità. Usa delle parole intermedie, delle parole filtro, che rappresentano la sua forza di cambiamento e il suo limite. Perestroica che cos'è? Ristrutturazione. Glasnost è trasparenza. Non è la verità. Non è la verità. Quindi il sistema va ristrutturato. Occorreva quindi una sorta, potremmo dire, di manutenzione speciale. Bisogna mettere mani al sistema in fretta, afferrarlo per il collo per provare a salvarlo, cambiandolo naturalmente. Secondo te, diciamo, l'unico forse predecessore che poteva in qualche modo somigliarli, anche se è morto presto perché stava male, era Andropov forse? Andropov dava una garanzia assoluta al partito. Era il capo del KGB. E quindi il partito si fidava automaticamente delle modernizzazioni che Andropov teorizzava che non ha avuto tempo di realizzare. Tanto che è venuta meno questa garanzia dell'uomo dei servizi segreti, quindi anche del custode della memoria ideologica del partito, si ritorna alla glaciazione breseviana, nominando Cernieco, l'uomo dell'apparato. Qual è la sensazione che si respirava a Mosca, che avevano i cittadini? Che quella classe fosse eterna. La chiamavano proprio così, la classe eterna. E secondo che quella nomenclatura si preoccupasse di occupare il potere più che di gestirlo. E quindi di garantire se stessa, senza rendersi conto che in questo immobilismo si consumava in una sorta di autofagia, si divorava mentre governava, perché non governava di fatto. tenevo occupato il posto. Senti. Però volevo dirti un punto, perché tu giustamente sottolineavi la figura di Andropov. Andropov ha un'importanza fondamentale, perché a parte che come il KGB controllava i dossier di tutta la nomenclatura diffusa, anche di provincia... Anche oggi abbiamo un presidente che, diciamo, ha fatto quello stesso percorso. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lui nel letto di ospedale della clinica chiama questi giovani della leva del dopodomani, li chiama... Tra cui Gorbaciov. Tra cui Gorbaciov e Ligaciov, che sarà poi il suo avversario, compagno di Poliduro per tutta la durata dell'avventura gorbacioviana, e suo avversario a nome dei tradizionalisti, della destra, dei conservatori, opponendosi alle riforme. Li chiama, li misura, li pesa, crea una rete tra di loro, e nei suoi colloqui con i maggiorenti del partito dice che il giorno che si decidesse di saltare una generazione, gli uomini ci sono, teneteli d'occhio, c'è la glaciazione di Cernienco, si capisce che non si può andare avanti così, e dopo la morte di Cernienco, due morti di due leader in pochi anni, dopo il lungo periodo broseviano, si decide di fare il salto, perché il sistema non può resistere, il sistema rischia di cedere, di implodere, e quindi si arriva... Chissà perché forse, dico una sciocchezza, ma Cernienco in qualche modo mi ricorda Longo, quell'interregno di Longo nel PC italiano, che era, diciamo, prima di Berlinguer, no? Sì, Longo ha un passato più titolato, lavora con Gramsci, c'è quella Torino di quegli anni del Bienio Rosso, alle spalle, però certamente i partiti comunisti hanno dei momenti dove gli uomini rappresentano nella transizione la conservazione, si arroccano, pensano prima di tutto a conservarsi e proteggersi. Senti, siccome non fu indifferente la svolta di Gorbaciov rispetto anche agli altri partiti comunisti europei, prima di tutto quello italiano, che era il più importante in Europa, ti faccio sentire cosa dice D'Alema di quella svolta. Presidente D'Alema, il 9 novembre 1989 crolla il muro e lei è direttore dell'Unità. Come vive quella sera, quella notte? Beh, come un grande evento, non soltanto perché evidentemente, diciamo, dal punto di vista giornalistico, era un grande evento. Noi avevamo la percezione esatta che stavamo vivendo un momento della storia, insomma, della storia collettiva, ma anche della storia politica e persino anche della storia personale. Ma fu una sorpresa o vi eravate accorti da qualche mese, da un po' di tempo, che la situazione era una situazione che andava verso quella soluzione? Non eravamo sorpresi del fatto che stesse sgretolando un mondo. Poi naturalmente quel processo ha avuto un'accelerazione particolare. io credo molto anche dovuta alla personalità di Gorbaciov. Era convinto che quel sistema andava abbattuto. Il vecchio establishment lo considerava un pericolo, un elemento immersivo. Poi alla fine cercarono anche di fargli un colpo di Stato, diciamo. Una volta glielo chiesi direttamente in una conversazione privata, lui venne in Italia, io ero segretario del Partito Democratico della Sinistra, lo ospitammo, e gli parlo del 95, 95 mi parlo, e io a un certo punto gli chiesi se lui non fosse pentito, diciamo, perché si parlava della situazione della Russia, di Yeltsin, della corruzione, degli oligarchi, una domanda di quelle che non si fanno, diciamo, così, che voleva essere scherzosa, ma in realtà lui rispose molto seriamente e mi disse quel mondo andava abbattuto perché era la negazione dei nostri valori, della sinistra, cioè non si capisce Gorbaciov se non si comprende che è stato un uomo di grandissima tensione etica, ideale, per il quale l'abbattimento di quella dittatura burocratica, oppressiva, è stata una missione. Beh, certamente di Gorbaciov si possono dire tante cose, meno che abbia, si sia arricchito personalmente, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cosa che abbia avuto intorno a questi oligarchi che rastrellavano miliardi? Beh, il sistema era ancora in piedi e il sistema aveva delle sue tutele. Non permetteva. La nomenclatura era ampiamente garantita, medicine occidentali, case di cura particolari, alimentazione riservata, negozi riservati alla nomenclatura. Uno scrittore patriottico, padre di un mio amico, molto anziano, mi disse se ti capiterà mai di incontrare un uomo del polibiuro guardagli la pelle del viso, è diversa dalla nostra, proprio per le ragioni che abbiamo appena detto. Ma Gorbaciov ha un problema che si rende conto ben presto che il partito invece di essere la leva del cambiamento è lo strumento di resistenza e non c'è altra classe dirigente in quel paese oltre al partito. Non c'è nemmeno l'impronta genetica del mercato che c'è in Cina, lo spirito commerciale, piccolo imprenditoriale che è stato risvegliato sotto il maoismo dalle riforme cinesi. Per cui Gorbaciov si trova senza lo strumento in mano per portare avanti questo cambiamento che mette in atto e deve ogni volta che annuncia le riforme vincere i contrasti che nascono all'interno del polibiuro dove le riunioni sono via via delle battaglie e la gente questo lo avverte tu mi chiedevi prima che clima c'era a Mosca presto c'è il distacco degli intellettuali soprattutto di quelli che a Mosca si chiamavano e si chiamano ancora i scesti di Siatniki cioè quelli degli anni 60 perché questo? Perché avevano creduto nel disgelo Khrushcheviano ed erano stati poi colpiti duramente dal rigelo della stagnazione brestleviana ed era come se dicessero a se stessi non ci caschiamo più e invece Gorbaciov aveva scongelato quelle speranze che non credevano più di poter avere e poi non le portava a compimento Adesso adesso ci arriviamo pochi minuti di pubblicità e torniamo perché avevamo molto da su cui riflettere il solito è il segreto di Benedetta ormai lo sanno che il mio segreto è Golfetta fatto solo di carne e di prosciutto ma io ho già un nuovo segreto è Bresì Golfetta e Bresì tutto il gusto della leggerezza quello che stiamo creando insieme è prezioso abbiamo sempre cercato nuovi orizzonti non importa quanto ambiziosi e lontani quello che conta è sentirsi più uniti abbiamo raggiunto luoghi dove sembrava impossibile arrivare inventandoci nuove forme e colori tutto restando sempre vicini al tuo business Banca X il valore di crescere insieme le famiglie hanno cambiato il proprio stile di vita e Amadori si è evoluta con loro con la linea qualità 10 più pollo 100% italiano tenero e gustoso allevato a terra senza uso di antibiotici parola di Amadori il tuo 5x1000 AGSD Foundation è un grazie di cuore per la ricerca per la cura per te con la tua firma ci metti il cuore grazie bella questa Kia elettrificata bella questa Kia elettrificata bella anche questa Kia elettrificata hai appena detto anche? hai appena detto anche? aggiornati la gamma elettrificata Kia è tua da 159 euro al mese con vantaggi fino al 12.500 euro elettrica hybrid o plug-in hybrid scopri su Kia.com e in concessionaria la tecnologia perfetta per te a settembre siamo sempre aperti Kia the power to surprise in questi mesi abbiamo compreso il valore della parola indispensabile come lo sono gli amici gli affetti da Conad fino al 31 dicembre continuate a trovare centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi mai così tanti mai così a lungo quando pulisci la fatica sembra infinita passa a Smack Express super efficace si risciacqua in una sola passata la fatica sparisce Smack Express più pulito meno fatica non ci pensare tira ce la puoi fare non è il suono più bello del mondo il canestro più difficile lo facciamo insieme do you ringo strella e segue tira togli e scatta un bel visticcio quando il gioco si fa duro al posto della stizza tu prova con un poco di dolcezza prova la nuova polpa datterini mutti naturalmente dolce è arrivata l'ho voluta io per premiare i miei collaboratori caffè Borbone è unico anche al distributore dopo una pausa così tutto è possibile caffè Borbone nel tuo distributore casa giusta bella vista c'è idealista l'app che per me numero uno grande artista vanguardista degli annunci sempre secondo me numero uno resisti ti fa malissimo il comito è epicondilite certo ci vorrebbe un'ecografia oh si figurati ci vogliono mesi non ci vogliono mesi ci vuole una polizia allora epicondilite ma come facevi a saperlo io guardo avanti per questo ho scelto unipolzai anche per l'assicurazione salute prenoti subito la tua visita specialistica evitando lunghe attese basta usare l'app più veloce di così scegli il futuro unipolzai sempre un passo avanti papà Albertina sempre più persone assomigliano a Einstein perché hanno scoperto la spesa intelligente da Eurospin aggiungendo prodotti aumenta la convenienza in pratica più compri più risparmi e i soldi che risparmi da Eurospin li puoi spendere per godersi la vita e io ho scoperto questa offerta i grandi del risparmio spaghetti e mezzo penne rigate 3 mulini confezione da un chilo e mezzo a 85 centesimi Eurospin da spesa intelligente il tuo aspirapolvere ha una potenza di aspirazione di 220 watt aria cattura il 99,97% delle particelle fini di polvere ed espelle aria più pulita la tecnologia Dyson ti aiuta ad avere una casa più pulita non conta solo dove siamo diretti ma anche come ci arriviamo scopri le nuove Jeep 4 per i plug in hybrid Jeep Renegade Jeep Compass tu hai da 249 e 329 euro al mese e decidi tu quando inizi a pagare ti aspettiamo sabato e domenica insomma crolla il muro di Berlino 1989 e Gorbaciov è sicuramente dietro questa no questa svolta clamorosa che segna la fine della guerra fredda se mai è finita davvero la guerra fredda per lo meno quel tipo di confronto e molti dicono il crollo del muro di Berlino è l'anticamera della dello scretolamento della dell'unione sovietica dell'impero sovietico e Gorbaciov era consapevole diciamo di avere acceso una miccia senza sapere poi dove sarebbe esplosa questa questa bomba Gorbaciov ha cercato di resistere alla alla riunificazione della Germania ha capito che non si poteva salvare il muro di Berlino non ha probabilmente compreso che a quella pietra era collegato e su quella pietra si reggeva tutto il sistema di potere sfilandola dell'est sovietico sfilandola è venuto giù tutto poco per volta è saltata la cortina di ferro e si è aperto quel varco dove poi la libertà non la puoi dosare una volta che apri un varco la libertà si spalanca la strada da solo se le dai la possibilità di forzare e di passare Gorbaciov è a Berlino per il cosiddetto compleanno della DDR c'è la parata ufficiale ha un incontro serale con tutta la nomenclatura della DDR è molto freddo con Onecker e Onecker che non fa nulla per nasconderla questa freddezza non fa nulla perché c'è uno scambio di battute al di là dei brindisi ufficiali Gorbaciov gli dice chi rimane indietro sarà punito dalla storia e Onecker risponde siete sicuri che ci siano salami a sufficienza nel vostro paese come per dire noi abbiamo più mezzi di voi durante la parata ufficiale ci sono dei gesti irrituali per una leadership marmorea come quella dei paesi dell'est abituata a stare sul parapetto sul balcone di granito del mausoleo di Lenin durante le parate Gorbaciov guarda due volte l'orologio non si è mai visto e soprattutto tira fuori dalla tasca della giacca l'agenda e si mette a consultare gli appuntamenti mentre sfilano i reparti sotto e Onecker saluta col pugno chiuso Gorbaciov saluta con la mano aperta non saluta mai col pugno chiuso uno schiaffo un gesto irrituale a un certo punto si sente noi eravamo nella tribuna di fronte alla tribuna d'onore si sente si sente uno strepito delle urla di ragazzi che avevano provato a manifestare in centro erano stati dispersi dalla polizia erano arrivati laggiù in fondo al viale e urlano si sente distintamente Gorbaciov resta con noi Gorbaciov aiutaci Gorbaciov rimani qui anche soltanto per una settimana allora il il leader della nomenclatura comunista non mi ricordo più chi era che era la sua sinistra gli dice Mikhail Sergievich avete sentito ma il segretario del partito operaio polacco mi dirà Gorbaciov anni dopo gli mette una mano sul braccio e gli dice Mikhail Sergievich avete capito che qui oggi è finito tutto ed era così ed era così senti a un certo punto Gorbaciov sembra perdere lucidità e siamo diciamo nella fase più complessa che è quella in cui come dicevi tu quando dai la libertà la libertà si fa strada da sola le repubbliche cercano l'indipendenza lui inizialmente diciamo in qualche modo sostiene questa richiesta poi decide di mandare l'esercito e poi improvvisamente c'è quel colpo di Stato su cui molti hanno il sospetto che non si capisce era davvero un colpo di Stato non lo era ma insomma lui ne esce a pezzi da quella da quella storia come te la ricordi ma diciamo che il processo di cambiamento corre velocemente l'apertura alle riforme di Gorbaciov sia pure approssimativa rimette in movimento la storia la storia si mette a correre e non la controlli più non sei in grado di dettare tu il ritmo della storia per cui Gorbaciov rimane in alcune zone sopravvanzato nelle repubbliche asiatiche nelle repubbliche caucasiche si urla a morte Gorbaciov mentre l'aiatola Comeini manda una lettera al polibiro dicendo è chiaro come il cristallo che l'islam erediterà le russie nei paesi baltici improvvisamente a Tallin sotto lo sguardo della telecamera numero due mi ricordo una sera i partecipanti alla riunione si mettono a parlare in estone sacrilegio non parlano in russo ma parlano in estone a Vilnius abbiamo visto un milione di persone marciare dietro una croce in un paese che faceva parte delle repubbliche quella catena umana incredibile quella catena umana naturalmente i movimenti secessionisti i movimenti indipendentisti creano dei contraccolpi i conservatori presentano il conto a Gorbaciov una volta eravamo con dei colleghi americani a Vilnius dal capo della rivolta a Landsbergis al conservatorio musicale dove insegnava veniva dalla società civile e gli abbiamo detto ma non c'è rischio che se continuate a insistere andare avanti troppo in fretta mettete in crisi la perestroia che arrivano i conservatori e quindi per voi sarà poi più difficile lui è andato alla finestra ha sollevato la tenda ha detto la vedete quella statua di Lenin col dito puntato noi abbiamo la possibilità di spostare quella mano che punta il dito contro di noi da 70 anni e voi vorreste che non compissimo il nostro destino insomma era fatta era fatta era fatta senti a un certo punto lui cerca in qualche modo anche rocambolescamente di restare in sella ma poi si deve dimettere nel momento in cui si dimette già internamente si è creata si è creato un altro contropotere quello di Yeltsi con gli altri presidenti delle repubbliche che lo sostengono mentre a occidente quando si dimette viene celebrato come un eroe e non come l'uomo smunto pallido che scende dalla scaletta l'aereo dopo il colpo di stato ti faccio vedere alcune dichiarazioni di leader di quel periodo insomma mondiali che parlano di lui che dicono di lui alcune cose dopo che si è dimesso François Mitterrand presidente francese Gorbachev ha preparato e organizzato l'avvento della libertà e la fine della guerra fredda e il disarmo poi andiamo avanti George Bush senior Gorbachev ha permesso ai popoli dell'URSS di farla finita con decenni di oppressione andiamo avanti Helmut Kohl Gorbachev ha fatto uscire il suo paese da oltre 70 anni di torpore e ancora un'altra la famosa Margaret Thatcher spero di poter continuare a lavorare insieme al presidente dimissionario dell'ex URSS beh insomma cioè dei riconoscimenti che non non erano stati riservati a nessuno dei suoi predecessori eppure internamente viene davvero messo da parte è così ricordiamo che il disarmo è stato uno dei principali impegni e dei principali risultati che restano nella storia a vantaggio di Gorbachev il rapporto con Reagan il rapporto con la Thatcher che è la prima leader che lo sdogana ma poi anche altre cose il ritorno di alcuni esuli che se ne erano andati perché erano considerati dei dissidenti il regista Liubimov che torna al teatro Taganka dove ha fatto danzare Margherita col maestro portando in scena Bulgakov Sakharov che torna a Mosca col treno delle 7 meno un quarto del mattino liberato dal confino il film pentimento sugli orrori dello stalinismo che viene proiettato a Mosca con una grande attenzione di pubblico il ritiro delle truppe dall'Afghanistan non dimentichiamolo questi sono dei risultati importantissimi scatta il golpe comunista che è un golpe autentico il pressapochismo di queste persone non deve farci dimenticare chi erano i protagonisti il quadrilatero classico del potere il capo del Ianaiev il capo dell'apparato del partito Kriushkov il capo del KGB il capo delle truppe speciali e il capo dell'esercito un golpe comunista classico che conferma quello che si dice a Mosca da secoli il potere può essere solo sanguinario o insanguinato quindi il partito comunista si è lasciato deformare ma non si è lasciato riformare ha resistito al cambiamento e qui c'è tutta la tragedia gorbacioviana perché noi occidentali lo salutiamo come confermano queste immagini queste frasi che tu hai citato come il primo riformatore di quel paese i sovietici i russi lo vedono come l'ultimo segretario generale il primo e l'ultimo nello stesso tempo questo spiega anche perché Jelzin si è attirato il consenso dell'opinione pubblica quando è salito su quel carro armato perché si era ribellato al partito aveva avuto la forza di ribellarsi al potere costituito e quindi era salutato come una persona di cui il popolo si poteva fidare in qualche modo e Jelzin quando sfida Gorbaciov ed è presidente della Russia fa sì che Gorbaciov si trovi capo dell'unione sovietica con il Baltico che prova ad andarsene per la sua strada le repubbliche caucasiche che fibrillano e la Russia che si autonomizza diventa Mikhail senza terra è certo è certo è certo senti hai visto in questa intervista di Herzog Gorbaciov imbozzito molto no molto molto malinconico tragico tragico nel senso proprio greco del termine se vogliamo secondo te lascia un'eredità Gorbaciov rispetto a quello che ha fatto nella Russia di oggi beh la storia ricorderà il suo posto non aveva probabilmente una teoria compiuta del cambiamento si brucia nell'ansia di rinnovare per necessità la necessità diventa una politica a un certo punto per l'ansia di rinnovare si brucia le sponde che aveva alle spalle ma non arriverà mai a toccare la sponda della democrazia tuttavia ha messo in movimento un mondo e come ha detto mi pare Bush ha permesso non ha teorizzato la liberazione di quei popoli che erano soggiogati dalla corazza sovietica dello stalinismo la permessa non dimentichiamoci che come dimostra la caduta del muro di Berlino Gorbaciov si rifiuta di muovere le truppe nel suo paese e nei paesi satelliti però messa così come la stai raccontando la sensazione è che Gorbaciov non avesse poi fino in fondo una visione cosa che per un politico diciamo è abbastanza grave quindi si è messo a un certo punto a rincorrere gli avvenimenti che lui stesso aveva messo in moto Gorbaciov si è mosso dentro i limiti della sua formazione di Bolshevico classico e anche della deformazione possibile di quella formazione di quel sistema che rappresentava aveva poi una sorta di lealtà col partito non ha mai pensato di tradire il partito si rendeva perfettamente conto dello squilibrio che dicevi tu in patria delle difficoltà enormi anche con l'opinione pubblica oltre che col partito e fuori invece un successo enorme quando Gorbaciov scrive sulla stampa senza questo papa polacco nulla di quello che è successo all'est sarebbe stato possibile il papa gli restituisce storicamente l'apprezzamento e dice anche senza questo segretario generale nulla sarebbe stato possibile senti ti faccio vedere una piccola clip ecco guarda che foto come come invecchiato rispetto a quell'uomo energico dinamico che abbiamo visto diciamo negli anni in cui era era al potere ti faccio vedere una piccola clip per capire dove siamo arrivati oggi in Russia in Russia E questo è il successore, Corvo Bianco. Boris Yeltsin, che era conosciuto da tutti per la sua debolezza nei confronti dell'alcol. Tra l'altro mi pare che con Repubblica ci fu anche un episodio in cui voi raccontaste come stavano le cose, di lui che barcollava, non era in sé e se la prese molto. Ma andiamo avanti, ti faccio vedere anche l'altra clip perché arriviamo ad oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo Yeltsin, Putin. Putin ormai sono vent'anni che domina la Russia, la domina a modo suo. Abbiamo visto alcuni delitti eccellenti della giornalista Napoli Tosca, che è il suo oppositore più accanito, più feroce, più strutturato. che cosa che Russia è rispetto all'Unione Sovietica di Gorbachev e Putin rispetto a Gorbachev? Ma diciamo che se parli con gli amici russi, anche quelli che sono individualmente all'opposizione rispetto al potere di Putin, ti dicono che il periodo di Yeltsin è stato un periodo di umiliazione da parte dell'Occidente, perché l'Occidente ha creduto in quegli anni che l'URSS potesse essere ridotta al rango di potenza regionale. Quindi controllabile. Che la Russia, scusa, non l'URSS. Sì, certo, quindi controllabile. Quindi controllabile e non rilevante sul piano delle grandi potenze. dimenticandosi che la Russia ha un'anima imperiale, eterna, che c'era prima dell'Unione Sovietica e dura dopo nel sentimento popolare. E Putin in qualche modo, questa è la ragione del suo consenso nonostante tutto, l'ha risvegliata, l'ha titillata, l'ha spazzolata, l'ha restituita in qualche misura. Cominciando dalle forze armate, quindi restituendo la potenza non soltanto sul piano politico, ma anche sul piano militare, no? Certo, e quindi loro hanno ritrovato il piccolo padre, no? Hanno ritrovato un potere dietro quale ripararsi, che nello stesso tempo restituisce al Paese quell'idea di grandeur che il Paese aveva e che comunque è testimoniato ancora dalla mummia, dopo 70 anni, dalla mummia di Lenin sulla Piazza Rossa. Questo è la ragione del consenso di Putin. Nello stesso tempo le libertà vengono messe fortemente in discussione e siamo arrivati al punto che Putin ha addirittura teorizzato la dissociazione possibile tra la cultura liberale e la democrazia. Cioè la strada liberale, quella dei diritti delle istituzioni, dei diritti dei cittadini, non è l'unica interpretazione della democrazia. Ce ne può essere un'altra, cioè quella degli autocrati al potere, che governano liberandosi dagli strumenti di controllo. Il controllo della magistratura, il controllo della Corte Costituzionale, il controllo del Parlamento, il controllo della libera stampa e quindi della pubblica opinione. Senti, tu hai conosciuto Navalny? Sì, ho passato una giornata con lui, qualche anno fa. Perché siccome adesso, voglio dire, è al centro dell'attenzione per questo avvelenamento di cui è stato vittima, avvelenamento che viene naturalmente ricondotto a Putin, anche se non c'è una prova diretta, però sta di fatto che il tentativo di farlo fuori è abbastanza evidente, lo dicono anche i medici tedeschi dove è ricoverato. Che cosa ti ha detto Navalny di Gorbaciov, di Putin? Cosa ricordi, diciamo, di più forte? Non abbiamo parlato quel giorno di Gorbaciov, ma Gorbaciov mi ha parlato dopo di Navalny perché sono andato a trovarlo. Ah, dicendo? No, quando sono andato a salutare Gorbaciov prima di tornare all'aeroporto gli ho detto che ero stato da Navalny, che facevo un pezzo sugli oppositori di Putin, un reportage, e lui mi ha detto non c'è un filo diretto, però tu capisci che si potrebbe dire che questi sono tutti nipotini della perestroica. È come se dicesse, non ha detto altro, ma come se intendesse che il seme gettato all'ora ha poi dato qualche frutto tardivo, ma lo ha dato. Senti, ti ha portato Gorbaciov nella sua stanza dei trofei, chiamiamola così. Sì. Che è dove c'è la fondazione. Dove c'è la fondazione? C'ero andato nel 90, nel 92, poi negli anni successivi a trovarlo e questa fondazione si è via via rimpicciolita. Gli hanno preso delle stanze, poi gli hanno preso un piano, poi gli hanno preso tre piani. Adesso è ridotta alla stanza di Gorbaciov, alla stanza dei suoi collaboratori. C'è la stanza dei trofei, dove lui fa passeggiare gli ospiti e ci sono i regali che ha ricevuto, le targhe, ma ci sono le fotografie e lui si ferma e racconta un aneddoto di tutti gli ospiti che ha avuto al Cremlino o le persone che ha incontrato in altri paesi, con Reagan, con Bush, col Papa, con Jaruzelski, il viaggio in Cina, con gli esponenti del Partito Comunista Cinese dopo gli anni del gelo tra i due partiti di due paesi. E diceva guarda, guarda, e non si accorgeva che io guardavo lui, guardavo le fotografie che lo ritraevano giovane e misuravo la distanza perché uno degli elementi che colpivano Gorbaciov quando è arrivato al potere con vent'anni in meno di Cernienco. Era proprio l'energia, si potrebbe dire, fisica, materiale. Rispetto a quella di mobilismo mummificato di Brezhnev, per esempio. E misuravo invece la distanza perché gli anni passano per tutti. Naturalmente Gorbaciov non sta molto bene. Tuttavia, come ha dimostrato Erzov in questa intervista, è ancora un combattente di una tempra diversa da quella di Helsing che si è ribellato al partito. Però ci sono quei due momenti, quando lui registra in maglione, spezzando l'iconografia ufficiale del capo del Cremlino, dalla Dacia della Crimea, il messaggio perché il mondo sappia che è una menzogna quella che sostiene che lui sta male. E quindi la battaglia. E poi il tentativo di resistenza alla sceneggiata del passaggio del potere della firma. No, questo non lo faccio. Lo dice prima, si vede nel film Cerniaev, il principale collaboratore, uno dei pochi che gli è rimasto accanto anche negli anni della disgrazia. Cerniavi dice una cosa che sembra paradossale, però c'è tutta la biografia di Gorbaciov in questo. La formazione e poi il tentativo di cambiare. Dice che nei momenti cruciali, quando aveva un grande problema da affrontare ed era indeciso, dialogava mentalmente con Lenin. Grazie, Ezio Mauro.